Andrea Sorri, Axis Communications, qui al Technology Biz a Napoli. Scopriamo che la tecnologia HD non è solo una tecnologia destinata esclusivamente ad uso di intrattenimento, ma anche ad uso, parliamo della sicurezza, quindi impiegata proprio a servizio degli inquirenti o delle aziende private che volessero ovviamente garantire la massima riservatezza riguardo a certi contenuti. Sì, vero. In principio le tecnologie più evolute per la videosorveglianza e per la sicurezza provenivano dal settore militare, adesso invece è il contrario, vengono dal consumer. Ad esempio l'HDTV è un concetto che siamo abituati a utilizzare per l'entertainment e per la televisione e giustamente abbiamo pensato che questo vantaggio in termini di qualità deve essere portato al servizio della sicurezza, quindi al servizio della videosorveglianza. HDTV vuol dire maggiore definizione, quindi megapixel, vuol dire latenza, ridottissima, quindi per vedere bene la dinamica di che cosa succede, vuol dire fedeltà dei colori, quindi essere sicuri che la macchina che sta scappando è marrone, scuro e non è blu scuro e non è nera. E ovviamente vuol dire qualità di tutti i dettagli, quindi abbiamo pensato innanzitutto di elevare il concetto di videosorveglianza prendendo ciò che di meglio ci offre il consumer, questo è il primo aspetto. Ci sono comuni italiani o internazionali che hanno già adottato questa tecnologia nella videosorveglianza? Sì, abbiamo già dei primi comuni che hanno adottato questa soluzione basata su HDTV, non mi è consentito di rivelare i nomi per questioni loro di riservatezza, però eventualmente è facilmente immaginabile il vantaggio di una qualità di immagine superiore rispetto a quello a cui siamo abituati comunemente, ovvero la possibilità per i vigili, per la polizia locale, per i carabinieri di poter contare di immagini di alta qualità sia in condizione di giorno piuttosto che di luce, sia di sbalzi di luce repentini che di oggetti in movimento come auto, come persone in fuga e cose di questo genere. Quante telecamere in questo momento ha attive AXIS? Nel mondo più di 2 milioni. In Italia abbiamo più di 150 paesi, più di 150 comuni di cui noi siamo conoscenza diretta che stanno utilizzando le nostre telecamere per la protezione del territorio. Con il budget di spesa che ovviamente deve investire un comune per avere questa tecnologia si può dare così un preventivo lampo? Ovviamente la parte di infrastruttura è la più importante. Se il comune ha già un'infrastruttura wireless o un'infrastruttura cablata a disposizione è tutto molto più semplice. Le telecamere possono costare dalle 300 alle 2000 euro. Bisogna capire bene qual è il costo, qual è il valore di una registrazione, ovvero quanto costa, che valore ha la registrazione di una rapina, o di un furto o di una macchina che scappa. Ovviamente deve essere un costo accettabile, sostenibile dalla pubblica amministrazione, ma deve anche soddisfare questo investimento, essere soddisfatto dalle aspettative e quindi essere soddisfatto dalla tecnologia.